Comincia giovedì 18 a Ravenna la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che durerà 8 giorni fino al 25 gennaio. Un'iniziativa che vuole accomunare e avvicinare tutte le confessioni cristiane che trovano nella preghiera un momento di unione. Il tema del 2018 è potente la tua mano signore. Giovedì alle 18 e 30 la messa nella chiesa di San Biagio sarà presieduta dall'arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. Lunedì 22 alle 18 al monastero di Santo Stefano degli Ulivi delle monache carmelitane, preghiera ecumenica e proiezione del filmato La preghiera che unisce liturgia bizantino-slava. Mercoledì 24 nella parrocchia romena di Santo Spirito alle 19 è in programma la recita del Vespro come momento di preghiera comune per le chiese ortodosse. Saranno presenti l'arcivescovo Ghizzoni per la chiesa cattolica, padre Daniel Vesea per la chiesa ortodossa rumena, padre Serafim Valeriani per la chiesa ortodossa russa e padre Alexei Boenciuk per la chiesa ortodossa moldava. Giovedì 25 alle 18 e 30 a San Paolo Monsignor Ghizzoni celebrerà la santa di chiusura della settimana.